Po' un incidente riguardante il tesserato di una società sportiva, per fortuna privo di gravi conseguenze, è avvenuto alla vigilia di un torneo regionale di arti marziali, provocare la chiusura di una struttura comunale per 110 giorni? La risposta è sì. Succede a Barletta e riguarda, nel caso specifico, il palla di sfida Mario Borgia, struttura da oltre 2000 posti a sedere, tra le più belle della regione per quanto riguarda gli sport indoor, con sede in Via Leopardi. L'impianto è chiuso al pubblico dallo scorso 4 maggio, quando è finito sotto sequestro giudiziario per un incidente che aveva coinvolto il tesserato di una società di arti marziali, alla vigilia del trofeo Coni Puglia di Cata e Kumite. Alla finestra ci sono diverse associazioni sportive cittadine che attendono di poter riprendere possesso della struttura, con la stagione al Via il 14 settembre. Il paradosso, che rischia di diventare un aggravante, è che tra meno di un mese il palaborge è stato designato come sede della finale nazionale di Supercoppa Femminile di Calcio a 5. Di fronte ci saranno la Salinis di Margherita di Savoia, vincitrice dello scorso campionato, e la kick-off di Sandonato Milanese, che ha conquistato la Coppa Italia. La ragione del lungo sequestro sarebbe piuttosto banale, come spiegano fonti vicine all'amministrazione comunale. Una lettera formale è già stata inviata sul tavolo del giudice per chiedere il dissequestro, ed è in attesa di risposta. Il countdown verso la finale, che sarà trasmessa in diretta nazionale, recita meno quattro settimane, quelle che Barletta ha a disposizione per evitare di far parlare ancora di sé per una struttura sportiva non impiegabile come da attese.